I finanzieri della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Salerno, sul delega della Procura della Repubblica, hanno sottoposto al sequestro un'area di 28.000 m2 di demanio idrico abusivamente occupata nel comune di Eboli. L'attività, oltre a prevedere il sequestro dell'area e delle opere su di essa realizzate, ha portato alla denuncia del responsabile che dovrà rispondere dei reati di occupazione abusiva di demanio, danneggiamento e deturpamento ambientale. Grazie